Posso fare un bonifico dal conto corrente dell'SRL al mio conto corrente personale? Ok, perfetto. Questa domanda è carina perché effettivamente ogni tanto mi chiedono gli imprenditori se possono proprio fare fisicamente un bonifico dal conto corrente dell'SRL al proprio conto corrente personale essenzialmente perché magari hanno bisogno di effettuare tendenzialmente delle spese a titolo personale. Ecco qua. E di fatto è ovvio che noi possiamo fare questa cosa che equivale un po' come ad avere il bancomat aziendale andare presso un qualsiasi bancomat e quindi puoi prelevare i soldi così. Quindi quando io prelevo i soldi dal conto corrente aziendale o vado in banca a prendere i contanti dal conto corrente aziendale o mi faccio un bonifico, ovvio che non so nessuno che mi punta il fucile quindi lo posso fare. Ok? Però qual è il problema, tra virgolette? È che io devo giustificare questo prelevo di soldi. Ok? E tendenzialmente questo prelevo di soldi in un'azienda sana deve arrivare da due componenti o dal compenso dell'amministratore, ok? Oppure da una distribuzione degli utili oppure direi eventualmente dai rimborsi spese analitici, forfettari, chilometrici che io devo richiedere alla società. Quindi io posso benissimo prelevare i soldi col bancomat andando in banca o con un bonifico portandoli dal conto corrente aziendale al mio conto corrente personale. Non c'è nessuno che mi praticamente blocca, perfetto. Solo che quei soldi vanno giustificati e lo si fanno con, diciamo, quello che un socio o un amministratore si può prendere. Bene, perfetto. Male che vada, male che vada, io consiglio di andare a giustificare questi soldi come finanziamento che fa la società nei confronti del socio barra amministratore e di dargli una utilità economica, ossia di fare in modo che la società da questo fatto che presti soldi al socio possa effettivamente guadagnare qualcosa magari a titolo di interesse attivo, in sostanza, in modo da rendere questa operazione più accettata, ok? Anche dagli organi controllori, in sostanza, perfetto. Detto questo, però, secondo me un altro punto principale che c'è da chiarire da parte nostra come imprenditori che abbiamo un SRL e prelevano così, no? Magari prelevano senza di fatto avere un compenso, senza avere utili e che io vagamente, anche se questa cosa non si può, io posso prendere più soldi rispetto al compenso dell'amministratore o più soldi rispetto agli utili che io genero, perfetto. Però questi soldi sono in un certo senso catalogati o come anticipo di utili anche se sono cose che dal codice civile non si può fare perché non sono, diciamo, regolamentate in sostanza. Oppure, se io prendo più soldi rispetto a quello che posso prendere, ecco che quelle cose sono dei crediti che vanta la società, la SRL, nei miei confronti come socio lavoratore, ok? Ed è ovvio che anche qui nessuno mi punta il fucile contro o non mi arriva la finanza in casa se faccio questa cosa qui. Però c'è un problema, perché se io continuo a prelevare in maniera ricorrente più soldi rispetto quelli che genero, rispetto agli utili che genero con la mia SRL in sostanza, quando poi dovrò chiudere la SRL, io questi soldi li dovrò restituire indietro all'SRL, soprattutto se voglio chiudere la SRL in maniera sana e dormire suoni tranquilli, ok? Perfetto. Quindi io, in un certo senso, come imprenditore, mi posso anche accorgere che posso indiscriminatamente indiscriminatamente andare avanti e prelevare di più rispetto all'utile reale che io genero. Perfetto. Però il peccato è che poi quando devo chiudere la SRL, effettivamente il commercialista mi farà presente che prima di chiudere la SRL la società deve riavere indietro questi soldi qua e se io sono stato spendacione e li ho consumati e non ce li ho, poi incomincio a non dormire suoni tranquilli. E poi dopo magari si vanno a fare cose che non vanno fatte, ok? E quindi a continuare a dormire ancora meno sono i tranquilli e poi andare in praticamente in problemi che possono essere molto più gravi in sostanza, ok? Quindi il prelevare, diciamo, o farsi un bonifico dal conto corrente aziendale al conto corrente personale in qualche modo maggiore rispetto al compenso alla distribuzione degli utili non ci uccide potenzialmente, ok? Però comunque è una cosa che io sconsiglio o di fare veramente, veramente in situazioni molto rare, estreme e se anche fosse, ok? Di cercare di ricoprire, insomma, questi soldi presi in più è il prima possibile perché poi ci dà problemi nel momento in cui voglio cancellare la società, ok? E comunque non si farà dormire suoni tranquilli, ecco dove è la cosa, ok? Quindi questo è tutto quello che, insomma, penso di voler condividere in questo piccolo, diciamo, pezzettino. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!